20 anni spesi per migliorare il servizio idrico e offrire un'acqua sempre più di qualità ai Brianzoli. Importante anniversario per Brianzacque, l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato nel territorio, fondata nel giugno del 2003. Abbiamo fatto molta strada con fatica ma anche con entusiasmo affrontando i problemi ma soprattutto ponendoci degli obiettivi ambiziosi. Gli obiettivi erano quelli di incrementare il volume degli investimenti che a questo territorio servivano e questa è la ragione per la quale ci siamo messi, come si dice, pancia a terra. Siamo partiti da un plafond di 4 milioni e mezzo nel 2014 e quest'anno un obiettivo di 73 milioni. E più, diciamo, in generale è quello di rendere un servizio ai Brianzoli che sia un servizio di qualità per far capire che in questa realtà, che è la patria dell'imprenditoria privata, anche l'impresa pubblica, se ben gestita e ben supportata dai nostri sindaci, riesce ad avere dei risultati di eccellenza. E' proprio quest'anno che festeggiamo i 20 anni di attività abbiamo ricevuto il premio come miglior Utility d'Italia e quindi credo che sia a coronamento dei tanti anni, dei tanti sforzi, della tanta passione, della tanta professionalità che mettiamo nel nostro lavoro. E' sicuramente un esempio molto positivo della grande capacità che certo pubblico ha di confrontarsi e di competere anche con il privato. E' un pubblico che ha dimostrato di saper funzionare ad alti livelli, sia da un punto di vista tecnologico, di innovazione, di ricerca, sia da un punto di vista di numeri. Io credo che sia la dimostrazione di come questo modello sostanzialmente in cui il pubblico e il privato competono positivamente sia molto importante per la nostra regione e sia una delle dimostrazioni del successo che questa regione riesce ad avere. Al contempo credo di poter dire che sia anche la dimostrazione del motivo per cui in questo territorio in modo particolare si chiede maggiore autonomia da Roma. Lo spirito che guida l'Utility è rimasto lo stesso di 20 anni fa. Pensare al domani dell'acqua con sfide e progettualità innovative e sempre più ambiziose. Tra le prossime iniziative in programma l'ampliamento del depuratore San Rocco a Monza. Noi abbiamo solide radici nel passato ma vogliamo avere uno sguardo lungo e quindi pensare ai 20 anni di futuro. E pensare ai 20 anni di futuro vuol dire pensare a progettualità come quella che è stata citata del depuratore. Noi abbiamo un depuratore che serve una gran parte del nostro territorio, un depuratore che nel corso degli anni è stato manutenuto ma al quale è stata fatta anche una rivisitazione dal punto di vista tecnologico. Adesso abbiamo la necessità per rispettare i limiti stringenti di Regione Lombardia allo scarico di ampliare questo impianto. E pensiamo di farlo con innovazione così come sono le attività che caratterizzano Brianzacque. Quindi lo pensiamo ipogeo, quindi sottoterra che non si veda e nella parte superficiale avere la possibilità di renderlo fruibile alla cittadinanza. E con una tecnologia decisamente innovativa, già ampiamente sperimentata in Europa ma non ancora in Italia. Noi abbiamo già fatto un pilota nel nostro impianto e pensiamo di poter ampliare il nostro depuratore grazie a questa tecnologia.